Pronto polizia? C'è stato un omicidio, è più grave di quello che pensiamo, ci sono decine di morti, cadaveri ovunque, un assassino da trovare. Come? Lei mi chiede dove. Beh, è ovvio, nel Murder Mystery. Oh, allora, il Murder Mystery, io direi di andare appunto nel Murder Mystery, ovviamente, come dice il titolo, come era ovvio, però al posto di fare quella classica voglio fare quella double up, perché c'è il doppio di tutto, quindi il doppio di assassini, e spero di essere un assassino, il doppio dei detective e il doppio, soprattutto, degli innocenti. Ok, ci può stare, diciamo che io spero di essere o l'assassino, che è tipo il più divertente, secondo me, poi fatemi ovviamente sapere voi sempre, ok, siamo innocenti, vabbè, dicevo, se preferite fare gli assassini, i detective o gli innocenti, e sperare che i detective muoiano affinché gli possiate rubare l'arco. Ora, chi è che c'ha la faccia da si sono un assassino? Vedi, lui non c'ha neanche la faccia, quindi non saprei. Ok, e invece è lui, ah no, no, ok, aveva l'oro in mano, pensavo avesse una spada, ho detto, ecco, alla fine sono già morto. Ok, lui mi sembra molto strano che cammina così a testa in giusta, è tristissimo, e questo qui è molto pallido, ok, tra l'altro hanno la skin simile a questi due, magari sono insieme a giocare, non lo sapremo mai, so solo che voglio prendere dell'oro e riuscire a combinarci qualcosa di buono. Uh, salve, signor orso, bravo, scappi, scappi, signor orso. Ah, si può fare anche parkour, guarda che bello, oh, tec, tec, mamma mia, che maestro, un pro, un fenomeno. Eh, un feo, invece, e invece. Allora, siamo in 13 in vita, ok, stanno facendo strage gli assassini, eh. E i nostri detective non si sono accorti di niente. Ora, tu mi sembri un bel po' sospetto, ma non potrei rompere sto vetro e prendermi l'arco, no? No, non posso. Qui però si può fare qualcosa, teletrasporta, ok. Facciamo finta di niente, non è successo niente, play a game, perfetto, cosa... No, non è successo niente. Uh, bella sta lobby, laggante, però molto bella. Cioè, dai, ci hanno preso alle spalle, non ho neanche capito cosa è successo, ok, va bene, va bene, facciamo finta di niente. Dai, facci fare il detective, abbiamo il 5% di chance, 4%, ti prego. Voglio fare il detective, ti prego, gioco. Siamo il detective, ok, ok, e lui è un agente segreto. Ah, tra l'altro, mica la skin tipo di bella faccia questa. Però senza gli occhiali, mi sa, boh, non lo so. Allora, dobbiamo stare attenti a non uccidere gli innocenti, altrimenti muoiono sia loro che noi, e quindi finirebbe totalmente in tragedia e gli assassini ci guadagnerebbero. E basta. Allora, sta mappa, boh, non me la ricordo, non la conosco molto bene, qua è pieno di statue spaventosissime, ok, ce ne andiamo. E sostanzialmente devo capire chi sarà l'assassino, tipo tu? Tu potresti essere tranquillamente l'assassino? Molto probabilmente sì. Molto scura e cupa sta mappa. Non è, diciamo, tra le mie preferite. Allora, in chat dicono che Cicamane è l'assassino e infatti, infatti... No, no, nasconditi, nasconditi, Massa. Chi è l'uomo pollo? Io lo sapevo dall'inizio che era l'uomo pollo. Quanto è stupido chiamarlo uomo pollo. Dov'è l'uomo pollo? Oh, 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 oh. Ok, abbiamo capito chi è l'assassino, dobbiamo solo riconoscerlo e non farci uccidere. E lui è molto strano perché c'è una ragnatela, ma vi lasciamo perdere. Dov'è l'uomo pollo? Si è nascosto bene il polletto. Ah, forse lui è già morto. Sì, no, no, non è lui. È ancora vivo l'uomo pollo. Aspettate, forse è sopra. Adelè. No, 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 no. No, lui sa. No, no, l'ho ciccato, signori, faccio schifo. No, 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 no. Sono molto... No. Sì, però abbiamo vinto. Yes, hanno ucciso l'uomo pollo. Allora, sono stortissimo. Vai, vai. No, voglio cambiare mappa. Andiamo a Hollywood. Ci può stare. Cioè, io direi che dopo essere stati il detective abbiamo fatto un po' schifo, però alla fine l'abbiamo vinto ed è quello che conta. Facciamo l'assassino. No, facciamo l'innocento. Mio Dio, ho visto Gesù. Andiamo alla caccia di Gesù. Signori, questo è chiaramente Gesù. Voglio la sua skin. Salve, signor... Signor Inri. Salve. Salve, buonasera, buonasera. Se Gesù è l'assassino... Giuda left the chat proprio. Oh, oh no, Jesus. Scappa. Hai un ninja alle spalle. No, 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 no. So chi è. So chi è. Scriviamo così. Ninja kill. Aiutiamo il team. No, no. Scappa, scappa, scappa. No, lui sa, lui sa. Io so, io so, lui sa. Blah, blah, blah. It's Ninja 2005. Oh, si chiama Ninja? Oh mio Dio. Dai, l'abbiamo visto tu. Beh, che dire. Right click. E ne facciamo subito un'altra. Cioè, dai, ero in lobby con Gesù. E siamo ancora gli innocenti. Però sta mappa è bella. È quella che praticamente, se non sbaglio, nella strada... Tipo arriva, boh, un qualcosa che comunque se ti trovi in mezzo muori. Come nella mappa, quella lì dove se arriva la valanga muori. E ci sta come cosa, perché magari lì è l'assassino tutto freni, tipo che non se lo aspetta lì che fa... E gli arriva una valanga in testa e muore. Quindi ci potrebbe stare. Ora, è molto aperta come mappa, quindi io me ne starei al centro. Boh, così almeno non mi killano. Guardate come l'ho gufata, eh. Chiaramente mi killeranno a mani basse. E se io stessi qua tutta la partita? Eh? Tra l'altro, più avanti, nei prossimi giorni porterò anche le Bed Wars, perché mi piacciono un casino. Sarò scarsissimo, ma proprio a livelli astronomici. Però le voglio portare. Questo qui è la skin strabella dei Templari, credo. Facci vedere. Oh, zì. No, non sono l'assassino. Vieni, amico, amico, amico. Vabbè, non la vedremo mai, perfetto. Dicevo, quindi porterò anche le Bed Wars. Mi dovrò allenare a manetta. No, 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 no. Riusciranno i nostri errori a fare finalmente gli assassini. Lo scopriremo tra un secondo. Oh, sì. Bene, 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 bene. Sono l'assassino. Ok, allora, allora. Calmi, 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 calmi. È una delle mie prime volte. Sono molto emozionato. Allora, devo giocarmela di strategia, nel senso. Ma questa qua è nuda. Vabbè, lasciamo perdere. Signorina, si copra, per favore. Tech, tech. Doppia, così, easy, sì. L'altra è World Terminator 06, ok. Allora, io me ne andrei dalla scena del crimine, come fanno tutti i buoni assassini. E salirei. Ma questa amica l'avevo già uccisa. Signorina, venghi un attimo. Vai, tiraglielo. No, ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato. L'ho ucciso? No, mi ha sgamato. Mi ha sgamato in pieno, mi ha sgamato in pieno. Tiragli, tiragli l'arco, tiragli l'arco. Cioè, l'arco, l'arco. Sto impazzendo, ok signori, sto andando in palla. Lui mi ha sgamato in pieno, palesemente. E noi sappiamo che lui è un detective, ok. Noi abbiamo già 3 kill e il nostro amico World Terminator. Ne ha solo una. Malino, malino. Oh, bravo, ho ucciso il tipo, bravo, bravo. Sotto! No, 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 no. Non ci credo. Da, abbiamo ucciso la persona sbagliata. Cioè, nel senso, se avessimo ucciso anche l'altro, saremmo ancora in vita. Non ci credo. Dai, ne faccio subito un'altra. E la chance di fare l'assassino all'1%, perché, ovviamente, se fai l'assassino, da quel che ho capito, non te lo fanno fare due volte di fila. A meno che, no. Vabbè. Però, intanto, abbiamo fatto sia il detective che l'assassino. E ora, l'innocente ci può anche stare. Che poi, io spero sempre che cada un arco e ce lo possiamo prendere, così almeno facciamo tipo i detective. Subentriamo come detective. Qua, vediamo cosa si può comprare. Salve, buonasera, permesso? No, no, non voglio stare da solo con te. Vai via, vai via, vai via. No, no, questo mi uccide. Bravo. Ok, lui non è l'assassino. Facciamo la mega distrazione. Scrivo, I'm the killer. Vai, così. Nessuno si aspetta cosa poi sia successo. Nessuno capisce cosa succede. Uh, 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 uh. Allora, lui è il detective. E loro due sono morti insieme. Addio, signore. Beh, che dire. Play again. E facciamo finta che non sia successo niente. Dai, ora fatemi fare il detective, però. Vi prego, voglio fare il detective. Prego, signore, voglio fare il detective. O è più bello fare l'assassino? Ma in realtà è più divertente fare l'assassino. Però, sto andando a fuoco. Però, sì, siamo l'assassino. Ok, ok. Allora, allora. Dobbiamo prenderla con molta calma e giocarcela d'astuzia. Sta mappa è scurissima. Proprio, non so quanto vedrete, perché YouTube comprimo un botto i video. Ma è scurissima. Lei è da sola. Zah! Morta. Ok, uno. Uccidi, 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 uccidi. No, ho sbagliato. Ho sbagliato tutto. Mi han sgamato, mi han sgamato. Steve. No, solo io Steve. No, non è come sembra. Non è come sembra. Dobbiamo uccidere lui che ha l'arco. Ok. Ok, abbiamo droppato un arco. Forse lo possiamo prendere noi? Non penso. Ok, no. Uccidi, 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 uccidi. Ok, lui l'abbiamo ucciso. Lui è l'altro assassino? No. No. Quindi lui lo andiamo a uccidere invece. Sotto. Ma perché lui non muore? Signori, perché quello lì non muore? Vabbè, lasciamolo in vita. Non ho capito perché. Magari era l'altro assassino. Siamo morti. Perfetto. Dai! Stavo andando così bene. Non ho capito perché lui non moriva. Mi è andato un po' in panico perché quel tipo non moriva. E allora, cosa sta succedendo? Sono un assassino pacco? Dai! Allora, quindi per ora abbiamo fatto l'assassino. Credo due volte, mi sembra. Mi sono già dimenticato. L'innocente. E mi sa che non abbiamo mai fatto il dettag. Ok, siamo ancora innocenti. Mi sa che non abbiamo mai fatto il dettag. Oh sì. No, forse una volta. Quindi io direi giochiamoci questa come innocente. E magari possiamo anche concluderla qui. Non lo so. Come siamo già in 19? What? Stanno già facendo una str... 16! Cosa, cosa, cosa? Sono straspietati questi assassini? Oh! No, no, no. Io c'ho paura. Oh! No, no, no. Fermi, 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 fermi. No! Guardate quanti cadaveri! No! I like burgers! Anche a me piacciono gli hamburger, amico. Verrai vendicato. Che tra l'altro è bella sta modalità. Però ci devo un po' prendere la mano. Ovviamente non è troppo difficile. Però, diciamo, per lanciare i coltelli soprattutto. Devo un attimino prenderci la mano. Anche se preferisco andare giù di mazzate con la spada. Qua! Oh! Compriamo il cavallino! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Vai cavallino! Fai un bel salto! Fai schifo cavallino! Oh! Abbiamo vinto! Yes! Bene, bene, bene! Sono contento! GG! Facile, dai! Questa è stata bella pure GG in caps lock! Quindi signori, mi tolgo le cuffie come alla fine di ogni video. Spero che vi sia piaciuto. Siamo stati assassini, innocenti, ma soprattutto detective. Non è stata la mia partita migliore della vita per sempre. Però è stato molto carino. Spero che appunto vi sia piaciuto. Porterò come ho detto anche le Bedwars. E niente, io vi do appuntamento domani, alla solita ora vero 2.45 con un nuovo video. Ciao!